il campo ibrido misto sintetico power glass è per noi una garanzia qui al centro sportivo dei marchi è fatto su misura per le nostre esigenze è stato fondamentale per la ripartenza dopo il coronavirus garantisce elevate performance e qualità di allenamento in ogni condizione meteo un campo giusto per lavorare ogni giorno nelle migliori condizioni possibili